Ed ora parliamo della mostra 90 artisti per una bandiera che è stata inaugurata ieri al Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia Militare. Può partire il servizio. Pubblico delle grandi occasioni a Modena, domenica 2 giugno, festa della Repubblica per l'inaugurazione della mostra 90 artisti per una bandiera. Il taglio del nastro è venuto all'interno del Palazzo Ducale, alla presenza del sindaco Giorgio Pighi e del comandante dell'Accademia Militare, generale di brigata Giuseppe Nicola Tota. L'idea di questa esposizione è venuta da Anna Ferretti Veroni, presidente dell'Associazione Reggiana Curare Onlus, al termine delle celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia. Le bandiere erano esposte nella città di Reggio Emilia per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ci sono state donate dal sindaco di Reggio Emilia l'Associazione Curare, dicendo che eventualmente se recupera qualche cosa puoi metterlo nell'Associazione. L'idea mi è venuta insieme a Sandro Parmigiano e coinvolgendo 90 artisti e facendone diventare delle opere d'arti. Il pubblico avrà in questo modo la possibilità di vercare il Cancello del Palazzo, che attualmente ospita l'Accademia Militare, ed entrare nella maestosa Reggio Estense, che prima dell'Unità d'Italia è stata la sede di un governo di uno Stato europeo, il Ducato di Modena, Reggio e Massa Carrara. L'intero progetto, dal coinvolgimento degli artisti al catalogo che lo accompagna, è stato curato da Sandro Parmigiani, critico e storico dell'arte, già direttore di Palazzo Magnani a Reggio. Questa mostra, 90 artisti per una bandiera, è nata dall'idea di fare lavorare artisti italiani e stranieri sulle bandiere che storicamente hanno caratterizzato l'evolversi dell'Unità d'Italia dal 1797, quando fu concepita la prima bandiera tricolore, ad oggi. Quindi ci sono i bandiere anche che riguardano i moti risorgimentali, il processo dell'unità e così via, e delle bandiere internazionali. Gli artisti hanno lavorato sostanzialmente in tre modi. Alcuni, e sono le bandiere che vedete qui nel loggiato dell'Accademia, hanno lavorato sulla bandiera, cioè dipingendola, tracciandovi dei disegni e così via. Altri hanno lavorato su dei frammenti o ritagliando parti di queste bandiere per usarle come collage nelle loro opere. Una terza parte si è invece ispirata alle bandiere che avevano in un qualche modo adottato, e una è diversa dall'altra, attraverso delle immagini, dei colori che sono rintracciabili nelle loro opere. Il tema della bandiera italiana, dell'unità d'Italia, è un tema molto sentito sia dagli artisti italiani sia da quelli stranieri, cioè il tema dell'unità di una nazione, della diversità che questa nazione deve sapere accogliere al suo interno. Ogni artista ha dunque interpretato il tema a modo suo. C'è chi con la bandiera ha realizzato una tenda, c'è chi l'ha avvolta intorno ad una croce. Altri artisti hanno preferito tagliarla valorizzando e interpretando soltanto alcune parti. C'è infine chi ha preso lo spunto per realizzare un grande telo nel quale il primo articolo della nostra Costituzione Repubblicana è stato tradotto in tutte le lingue del mondo. All'iniziativa, che gode del patrocino del Comune e della provincia di Modena, ha collaborato con entusiasmo anche il Panatron Club di Modena, presieduto dall'instancabile Maria Carafoli, che è stata coinvolta in questa operazione culturale. Deanna Veroni, presidente di Corane e Onlus, mi ha invitato all'inaugurazione della mostra che si è tenuta a Reggio Emilia. Davvero una mostra interessante, per la quale credo valesse la pena di cercare un luogo molto importante, l'unico luogo davvero importante e significativo non poteva che essere il Palazzo Ducale. La mostra è stata allestita in alcune sale in precedenza occupate dal Circolo Allievi al primo piano del Palazzo Ducale, una delle regge barocche più belle e grandi d'Europa e potrà costituire anche un'opportunità per rilanciare il turismo all'ombra della Grandina. L'evento, che contribuisce ad aprire alla società civile il prestigioso istituto militare che forma i quadri ufficiali di esercito e carabinieri, è stato reso possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità dell'Accademia Militare di Modena e in particolare del suo comandante, il generale di brigata Giuseppe Nicola Tota, che fin dall'inizio ha creduto in questa mostra, come ha ribadito in occasione della presentazione alla stampa avvenuta a venerdì scorso. Abbiamo creduto subito dall'inizio in questa mostra, perché è una mostra che tra l'altro organizzata a cavallo, in prossimità della festa nazionale, parlare di tricolore chiaramente è molto congruo. Poi è congruo anche parlare di tricolore nell'istituto di formazione degli ufficiali dell'esercito e dell'arma dei carabinieri, quindi è un grande segnale che noi diamo anche ai nostri giovani che credono e a cui noi insegniamo i valori. E poi è anche un momento di apertura nei confronti di tutta la popolazione modenese che guarda questo palazzo con grande interesse. Al termine dell'esposizione, le opere saranno vendute per raccogliere i fondi da destinare alla costruzione a Reggio Emilia di un ospedale della donna e del bambino all'interno del Santa Maria Nuova, non una alla volta, ma tutti insieme, con l'obiettivo di preservare l'integrità della rassegna e farne una sorta di raccolta permanente. Ricordiamo che la mostra resterà aperta tutti i fine settimana, il sabato e la domenica, fino al 30 giugno.